Dottor Renato Mantegazza, Presidente dell'Associazione Italiana Miastenia. Quali sono le attività di questa importante associazione a livello europeo e nazionale? L'Associazione Italiana Miastenia si occupa di questa malattia, è una malattia rara, è una malattia condivisa in tutto il mondo, quindi necessariamente ha un respiro anche europeo, le connessioni sono abbastanza importanti, da molti anni esistono. Si occupa dei problemi dei pazienti, si occupa di capire perché viene, si occupa di migliorare la terapia in questi pazienti. È una patologia poi non così rara, unendo tutti i dati a livello europeo, voi partecipate anche alla rete europea degli European Reference Network. Che cos'è questo network? Questo è un network che mette assieme tutti gli scienziati, i dottori, i ricercatori in generale, che si occupano di malattie rare e poiché la miastenia è una malattia rara, rientra tutto pieno in questo network europeo. Noi partecipiamo e siamo anche piuttosto attivi. La miastenia, che ha di fatto due capitoli, uno immunomediato e uno genetico, in entrambi i casi è rappresentata in questi ERN. Ecco, in questi ERN il ruolo delle associazioni di pazienti è un ruolo attivo, è vero che vengono coinvolti anche per i protocolli di ricerca? Assolutamente sì, ma questa è la costante dell'attività di ricerca della comunità europea. Deve esserci sempre l'associazione dei pazienti o i pazienti direttamente. Quindi questo dà un valore aggiunto alla ricerca perché vuole essere direttamente applicativa. L'associazione raccoglie fondi per progetti di ricerca, ma fate anche attività a favore delle famiglie e dei pazienti e date una serie di servizi gratuiti. Quali sono? Ad esempio uno dei servizi gratuiti è quello del supporto psicologico. Cioè pazienti in cui si fa in genere la prima diagnosi sono molto colpiti e quindi necessitano di imparare a gestire la propria malattia che poi sarà una malattia cronica. Ci sono poi servizi tipo le risposte ai quesiti sulle vaccinazioni che negli ultimi due anni sono state particolarmente pesanti, diciamo dal numero di richieste. Ci sono servizi riguardo quelle che sono le necessità anche di autotutela dei pazienti.